Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Buongiorno splendido mondo di Arte per te Feste finite, si sorteggiano i premi dei tre anni di festeggiamento per Arte per te Oggi è il 7 gennaio, quindi sono stata bravissima Sto sorteggiando proprio l'indomani dalla chiusura Stanotte a mezzanotte ho chiuso il video e adesso subito sorteggio Perché so che siete ansiosi Allora copio l'URL del video e sorteggerò con Suadeo il vincitore Facciamo un bel copia Qua c'è Spoti che mi fa compagnia Vado su Suadeo E metto in colla Numero dei vincitori 1 E vediamo chi ha vinto Vediamo, vediamo, Sashpans Carolina Mona Carolina hai vinto tu Che bello Un'amica di Arte per te Una di quelle che è sempre presente Carolina sono tanto tanto felice che tu abbia vinto Allora mandami il tuo indirizzo che ti spedirò con tanto tanto piacere i premi del festeggiamento di Arte per te Ti mando un grande bacio Ringrazio tutti voi per aver partecipato E non vi disperate se non avete vinto perché giveaway su Arte per te ritorneranno Non vi preoccupate Appena ricomincerò con le recensioni sapete che i materiali arrivano tutti tutti nelle vostre case Quindi grazie a tutti per aver partecipato Ancora auguri a tutti per i regali di Arte per te E brava Carolina!